Ciao a tutti, sono Martina della Samovar Viaggi e adesso vi faccio vedere come si prenota un'escursione a volto di Costa Smeralda grazie a questi monitor touchscreen. È semplicissimo, basta cliccare sulla lingua di riferimento, cliccare su escursioni, avvicinare la nostra Costa Card sul lettore, scegliere la città dove si desidera effettuare l'escursione, cliccare su un'escursione disponibile, possiamo leggere la descrizione, il prezzo sia per adulti che per bambini e cliccare su prenota ora. Scegliere la lingua del tour, selezionare i partecipanti e passare di nuovo la nostra Costa Card sul lettore. La nostra notazione è confermata, molto semplice. Ciao!